Farah, partiamo dalla prestazione, perché è veramente un grosso passo in avanti anche rispetto alle ultime trasferte. Una bella partita del Verona, a prescindere dal risultato finale. Sì, sì, no, su questo poco da dire. Abbiamo fatto una partita, quella che dovevamo fare, perché era l'unico modo per mettere in difficoltà il Genoa. Sulle seconde palle avere fame, cattiveria e poi abbiamo messo anche un gran gioco, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo fatto già molto bene la palla a terra, veloce, 1-2 e questo devo dire che abbiamo fatto veramente bene. Ecco, giocare così contro la squadra più in forma del campionato vuol dire tanto? Sì, sì, vuol dire tanto, ma vuol dire che noi lo possiamo fare e dobbiamo soprattutto continuare a farlo. Però poi andiamo a casa con un punto solo, questo dispiace, dispiace molto. Sono particolari che comunque poi fanno la differenza, ma ci portiamo cose buone a casa. È arrivato il tuo primo gol in stagione? Finalmente. Sì, lo aspettavi insomma. Assolutamente sì, io ci credo ogni partita, poi alla fine di io è anche un pizzico di fortuna a volte. È arrivata la palla proprio a me, sui piedi e sono stato bravo a sfruttarlo. Mi permetto di dire, magari non solo fortuna, perché tu sulle seconde palle ci hai costruito veramente tanti gol. Anche l'anno scorso mi viene in mente quello di Cagliari sull'errore difensivo avversario. No, assolutamente, io ci devo essere, perché comunque il mio ruolo che mi permette di stare sul secondo palle ci devo essere sempre e cercare di buttarla dentro il più possibile. Adesso ci cerca una continuità dei risultati, anche contro un avversario fortissimo come la Juventus, la prossima in casa al Bentecodi. Ma assolutamente, noi siamo onorati di incontrare una squadra così forte che la Juve, però ho paura veramente di nessuno, perché siamo consapevoli di quello che possiamo fare e cercheremo di fare il più possibile. Oggi ci sono visti in campo anche tanti ragazzi che mancavano da un bel po', come Vieira, come Veloso, è stato l'asolto di Sturaro, è importante recuperare tutti? No, assolutamente, comunque abbiamo un organico importante che purtroppo è venuto a mancare per varie infortuni, Covid, eccetera, e non abbiamo mai avuto comunque giocatori a disposizione. Adesso piano piano il gruppo sta tornando quello dell'inizio e sicuramente possiamo avere solo vantaggi su questo punto di vista. Sicuramente avete visto della bella vittoria della primavera. Sì, abbiamo visto, siamo molto contenti, orgogliosi, perché comunque siamo ragazzi veramente bravi, salgono con noi e devo dire che si allenano sempre a 2.000 e questo è il risultato.